Due Canadair dei vigili del fuoco italiani e altrettanti dei pompieri francesi sono volati in soccorso della Svezia, ma hanno problemi a decollare a causa del denso fumo che impedisce la visibilità. Quello che viene definito l'incendio più grave della storia moderna della Svezia è ormai al settimo giorno e interessa un'area di 100 km quadrati nella regione centrale di Sala. Il rogo ha provocato la morte di una persona. Almeno mille abitanti del villaggio di Norberg hanno dovuto abbandonare le loro case minacciate dalle fiamme ed evacuato gli animali dei loro allevamenti. Notevoli difficoltà si registrano anche nella circolazione stradale, resa pericolosa dalla scarsa visibilità. A favorire la diffusione dell'incendio è il caldo canicolare che da settimane ha investito la Scandinavia.